A detta di Giorgia Meloni sono due i possibili scenari che si presenteranno il 9 dicembre, giorno in cui Giuseppe Conte chiederà in Parlamento il voto sul MES. Da una parte infatti c'è il Partito Democratico a favore del meccanismo europeo di stabilità, dall'altra il Movimento 5 Stelle dà sempre contrario punto in mezzo, ovviamente, il Premier. E sono proprio questi ultimi due secondo la leader di Fratelli di Italia a pagare il prezzo più alto, mercoledì, è il ragionamento che fa al messaggero, o crolla Conte o crolla il M5S. Se il M5S cede anche sul MES avrà raggiunto l'obiettivo storico di tradire il 100% delle sue promesse. Un fatto che porterebbe la forza politica di Beppe Grillo a perdere tanti, troppi voti. Eppure tra le due ipotesi questa è quella più accreditata dalla Meloni. Unito almeno in apparenza pare essere il centrodestra, dire di sì alla riforma del MES significherebbe consegnare definitivamente la sovranità italiana e i dictate europei e utilizzare i soldi degli italiani per salvare le banche tedesche, ha poi proseguito ribadendo la posizione di Fratelli di Italia e della Lega? Forza Italia invece rimane ancora un rebus. Silvio Berlusconi ha detto chiaro e tondo che gli azzurri voteranno contro la riforma, ma i franchi tiratori non mancano. Nonostante le lusindie della sinistra, conclude, gli azzurri hanno agito ogni volta correttamente anche se questa sorta di soccorso è ciò che spera sempre la maggioranza.